Come nessuno ci avesse mai pensato è una bella domanda. Come Luciana Bianciardi sia riuscita a fare tutto questo è forse la miglior risposta. Un concorso letterario che abbandona le schemi tradizionali per spostarsi sul tavolo, fra vino e bruschette. Aria di altri tempi e racconti molto moderni regalano ogni mercoledì sera una bella partita, degna delle cugine più famose via etere, o sarebbe meglio dire via digitale terrestre, che sfocia da questa sera nell'evento da sempre principe, la finalissima. L'arbitro della semifinale, Roberto Carusi, scrittore, regista, attore, professore merito di drammaturgia, intervistato per noi dalla patrona del concorso Luciana Bianciardi, ha affermato che ha molto apprezzato tutti i racconti, la commissione di stili diversi e di diversi registri, da quello di stampo prettamente saggistico a quello più teatrale, da quello colloquiale a quello colto. Così, con 190 e 182 voti, passano rispettivamente Russo e Varalli, che si contenderanno quindi il primo posto proprio mercoledì prossimo. A questo punto non resta che prendere un tavolo e venire a seguire e a votare il racconto che vincerà questa sesta edizione di Giallo Milanese, chiaramente aspettando la festa che è già prevista per il 15 dicembre, nella quale verranno letti tutti i racconti vincitori dei premi speciali, del premio internazionale e del premio della casa editrice e verrà proiettato il cortometraggio di For Destiny, tratto da uno dei tanti racconti arrivati per questo splendido e interessantissimo concorso. Quindi non mi resta che darvi appuntamento per il 15 dicembre e da Federico Di Chiara per C6TV è tutto. Grazie.